Amici della ICW, benvenuti! Questa sera a Calcinate, 30 luglio 2017, abbiamo avuto un gravissimo infortunio. Nick Landers purtroppo non potrà più difendere la cintura per molti mesi. Quindi ho dovuto rendere la cintura di campione interregionale vacante. E mi tocca, mi tocca perché lo show deve andare avanti, mi tocca lasciarla al suo sfidante. Quindi mi tocca dare la cintura di campione interregionale a Miscio Miabic. Campione? Io sono sempre stato campione e finalmente la direggezza ICW ha capito questo, da? Ah, eh, eh, eh.